Cerchi una vacanza naturista indimenticabile immersa nella natura? Allora scopri la Genni Domaine Residenciale Naturiste. Un luogo unico, con ben 756 chalet distribuiti su 127 ettari di natura incontaminata, dove potrai vivere una vera esperienza naturista in totale armonia con l'ambiente circostante. Un'oasi di pace vicino a Bordeaux, perfetta per rilassarti e scoprire il fascino di una vacanza in un villaggio naturista. Benvenuti sul canale Spunti di Viaggio! Siamo felici di avervi qui e vi ringraziamo per la fiducia. Se siete appassionati di viaggi e volete esplorare destinazioni uniche e alternative, siete nel posto giusto. Ricordatevi di iscrivervi al canale e, se avete già visitato la Genni o volete condividere le vostre esperienze di vacanze naturiste, lasciate un commento qui sotto. Il Domaine Residenciale Naturiste della Genni si trova nel Dipartimento della Gironda, tra il suggestivo Golfo di Arcachon e la rinomata località balneare di Lacanot, a circa 60 chilometri dalla vivace città di Bordeaux. Situato in un ambiente naturale ben preservato, la Genni offre ai suoi visitatori un'esperienza indimenticabile. Qui potrete godervi una vacanza naturista con la famiglia in un villaggio turistico sul mare, con accesso diretto all'oceano e a una magnifica spiaggia naturista di sabbia bianca e fine che si estende a perdita d'occhio. Ma la Genni non è solo mare e relax. Questo villaggio offre una vasta gamma di attività per tutti i gusti e tutte le età. Gli amanti dello sport saranno felici di scoprire un vero campo da golf, l'unico campo da golf naturista al mondo, dove si può praticare in libertà e godere del panorama circostante. Per chi preferisce le attività acquatiche, c'è una piscina di mille metri quadrati che comprende ben quattro vasche, perfetta per rinfrescarsi durante le giornate più calde. Per i bambini e gli adolescenti, la Genni offre numerosi club dedicati, dove i più giovani possono divertirsi in sicurezza e partecipare ad attività pensate appositamente per loro. E se siete appassionati di sport, troverete sei campi da tennis, un pony club per i più piccoli, e potrete praticare yoga, zumba e altre attività di gruppo in un ambiente naturale e rilassato. La Genni pensa anche al benessere e alla cura di sé. Il centro benessere della tenuta offre una sauna, trattamenti estetici e massaggi per regalarvi momenti di puro relax. È il luogo ideale per rigenerarsi e ricaricare le energie. Situata in una posizione strategica, la Genni è un ottimo punto di partenza per esplorare alcune delle destinazioni più affascinanti della regione. A pochi chilometri di distanza, si trova il celebre Golfo di Arcachon, una splendida laguna con paesaggi incantevoli e diverse attrazioni naturali, come la famosa Duna di Pilat, la duna di sabbia più alta d'Europa, che regala una vista spettacolare sull'oceano atlantico e sulla foresta circostante. Bordeaux è una città vibrante e raffinata, capace di affascinare i visitatori con il suo mix unico di storia e modernità. Passeggiando lungo le sue vie, potrete ammirare splendidi esempi di architettura classica e rinascimentale, perfettamente conservati. Una tappa imperdibile è il Port de la Lune, che prende il nome dalla forma a mezzaluna della Garonna e rappresenta il cuore storico della città. Lungo le sue rive troverete edifici eleganti e monumenti, che testimoniano il passato fiorente di Bordeaux come importante porto commerciale. Tra le piazze più belle, spicca Place de la Bourse, famosa per il miroir d'eau, una grande fontana a specchio che riflette l'architettura circostante in un gioco di luci unico. Il Centro Storico offre anche musei affascinanti, come il Museo d'Aquitania, che racconta la storia della regione dalla preistoria ai giorni nostri. Non può mancare una visita alla Cattedrale di Sant'Andrea, un imponente edificio gotico con splendide vetrate e una vista panoramica dalla torre Pei-Berland. E per concludere la giornata, Bordeaux offre numerose enoteche e bar dove degustare i famosi vini locali, accompagnati da piatti tipici della cucina francese. Anche Lacanau, situata a breve distanza, merita una visita, soprattutto per gli amanti degli sport acquatici. Lacanau è una località balneare famosa per il surf e per le sue splendide spiagge, ideali per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e del relax. La Jenny è molto più di un semplice villaggio naturista. Durante l'alta stagione, vengono organizzati numerosi eventi e spettacoli per intrattenere gli ospiti e rendere le vacanze ancora più speciali. Nel villaggio si tengono spesso spettacoli serali di musica dal vivo, serate a tema e intrattenimenti per tutta la famiglia. È un'opportunità per socializzare con altri visitatori e godersi momenti piacevoli in un'atmosfera amichevole e rilassata. Nelle vicinanze, la città di Bordeaux ospita una serie di eventi culturali e festival durante tutto l'anno. Tra questi, il Festival del Vino di Bordeaux, che attira visitatori da tutto il mondo per celebrare l'eccellenza vinicola della regione. Se siete amanti del vino, questo è un evento da non perdere. Anche il Golfo di Arcachon ospita eventi stagionali, come festival di musica e spettacoli sul lungomare. Informatevi sul calendario degli eventi locali durante il vostro soggiorno per scoprire tutto ciò che la zona ha da offrire. Speriamo che questa guida vi abbia ispirato a considerare la Geni Domaine Residenciale Naturiste come prossima destinazione per una vacanza naturista all'insegna del relax, del benessere e della scoperta. Lasciate un commento qui sotto e fateci sapere se la Geni è la vostra prossima meta. La Geni e i suoi dintorni offrono anche un'ampia varietà di esperienze gastronomiche che renderanno ancora più indimenticabile il vostro soggiorno. Essendo così vicini alla costa atlantica, qui troverete freschissimi piatti di mare, come ostriche, frutti di mare e pesce alla griglia, spesso serviti nei ristoranti locali. Il bassin d'Arcachon è famoso proprio per le sue ostriche e vale la pena fermarsi in uno dei piccoli locali sulla costa per assaporare questo piatto delizioso. Per gli amanti della cucina tradizionale francese, la regione di Bordeaux offre anche piatti tipici come il foie gras, il magret de canard, petto d'anatra, e il confit de canard. Accompagnate il tutto con un ottimo vino locale, dato che la zona è rinomata per la produzione di vini di alta qualità, tra cui il celebre Bordeaux Rouge e il Sauternes, un vino dolce particolarmente apprezzato. Non mancano inoltre ristoranti e locali all'interno di La Geni, dove potrete gustare piatti della cucina internazionale e francese. In queste strutture si può mangiare in un'atmosfera rilassata, con una vista mozzafiato sulla natura circostante. Grazie per aver visto il video. A presto!